La guerra finirà a giorni Innanzitutto, nella società fascista bisogna dimostrare di essere uomini veri Ma tu ci credi in quell'ideologia? Io in questo momento non credo proprio a nulla Per credere ci vuole forza e io ora non ne ho E' come pensavo, la valeria è frenata, possiamo accamparci? Vi ho fatto chiamare perché i panni sporchi si lavano in famiglia Allora, questa è la guerra, lo vuoi capire sempre Non è un gioco